ciao ragazzi benvenuti a tutti in un nuovo video ragazzi oggi parliamo di cavetteria di potenza ragazzi questo video nasce perché perché un altro step che io devo fare e sto per fare è quello di ampliare tutto l'impianto fotovoltaico ampliando l'impianto fotovoltaico con batteria di accumulo cavo rosso cavo nero ragazzi questo è un cavo di potenza perché occhio attenzione a che cavo utilizzate nel vostro impianto fotovoltaico con accumulatore perché ragazzi dovete capire bene che i gruppi di accumulo negli impianti fotovoltaici connessi ovviamente al regolatore di carica o eventualmente se avete un inverter ibrido cioè che ha anche internamente come nel mio caso un regolatore di carica perché il mio inverter fa sia da regolatore di carica che da inverter ok perciò si occupa anche della carica del pacco batterie dentro questi cavi ragazzi questo è un 32 mm quadri un 2 avg qui c'è scritto qui 2 avg dovrebbe funzionare anche con un carico di 8000 watt ragazzi sono tantissimi nel mio caso specifico non arriverà mai a questo assorbimento perché numero uno perché io due inverter due inverter parallelati tutte e due inverter alimentati con una sola bms bms da 150 ampere perciò due inverter in parallelo prenderanno meta e meta mette il caso che io stia assorbendo 5 kilowatt ok questi 5 kilowatt si si dividono nei due inverter ok inverter 1 inverter 2 perciò 2,5 kilowatt cada uno perciò a voglia questo cavo basta e avanza anche perché ho questo fusibile questo ragazzi è un fusibile particolare è un fusibile ripristinabile in più puoi anche utilizzarlo come interruttore cioè puoi aprire il circuito cliccando qui si apre il circuito internamente questo 120 ampere cada uno ne ho due ovviamente perché ovviamente perché ovviamente ci sono i due inverter poi ci sono anche questi eccoli qua questo è quello rosso per il polo positivo della batteria e questo è quello nero per il polo negativo ok di questi me ne serviranno circa 16 ne ho acquistati 16 ragazzi per acquistare questo cavo e tutto ciò che ho preso oggi ragazzi mi sono venduto rene non si può comprare più nulla online volendo si trovano offerte si trovano promozioni però quando hai urgenza e online non trovi il prodotto con spedizione veloce cioè su amazon io questo non l'avevo trovato non lo avevo trovato perché se lo trovavo qualcosa risparmiavo ma quando andiamo in città ragazzi ci sgozzano quanto l'ho acquistato l'ho pagato la bellezza di 7 euro e 90 al metro ne ho presi 20 metri ok 10 metri rosso 10 metri neri perché perché devo fare due impianti ragazzi due impianti vogliono dire quattro inverter se ancora non hai visto i video dei quattro inverter dei cablaggi dove vado a spiegare un po ciò che devo fare vai sul canale se non sei ancora iscritto iscriviti mi raccomando niente ragazzi per questo video aggiornamento e tutto ripeto 2 a vg da 32 circa millimetri quadri come cavo e c'era anche disponibile il 50 millimetri che ragazzi era un cavo così grosso ma onestamente che me ne faccio cioè il mio impianto è suddiviso in due tu mi puoi dire fox ma se un inverter si rompe te ne resta solo uno e tutto il carico che prima si suddividevano poi ce l'ha uno solo questo sta a significare che il cavo batteria deve poter essere dimensionato in maniera tale da poter gestire anche tutto il tuo carico perciò 4 kilowatt 5 kilowatt tutti su un inverter ragazzi perché no ti ho detto che 170 ampere massimi sono 8 kilowatt perciò mettiamo il caso che c'è un assorbimento di 100 ampere questo cavo ce la fa ce la fa questo eccolo qui questo ce la fa ad avere un passaggio di 100 ampere di corrente idemo anche questo 120 ampere questo fino a 120 ampere lascia passare quando poi ci sono più di 120 ampere si surriscalda la lamella che c'è internamente e stacca stacca in automatico si surriscalda tutto internamente e per un po di secondi sarà fuori uso perché ovviamente il meccanismo interno è alterato quando il tutto torna allo stato di normalità funziona sempre se invece io voglio staccare la batteria di da un inverter clicco e ho staccato la batteria da quell'inverter voglio riallacciare la batteria alzo questo tic e alla batteria funziona nuovamente ragazzi se questo video ti è piaciuto e vi ricordo sempre di iscriverti al canale vai su amazon troverai i miei fascicoli tecnici cartacei ti lascio sotto in descrizione ragazzi qualche link vai a vedere i miei video del canale ragazzi o centinaia migliaia di video sulla tecnologia grazie per la visione ciao il prossimo video iscriviti mi raccomando ne vedremo delle